Sobborghia, dieci anni fa Oh, 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 no, aiuto Purtroppo il furto è confermato Tempo presente, laboratorio di Serremio Purtroppo è stato rubato dal laboratorio al quinto piano I sospetti sono concentrati sui ribelli e in particolare su uno di loro, un certo Geek Hoskins. Temo che un giorno i peccati del nostro padrone ricadranno su di noi. Ehi, guarda qua! Vola! Fermo, arrenditi! Eliminare del sangue! Arrenditi subito! Non sparate! Preferirei catturarlo perché ho investito moltissimo su quel prezioso esemplare. Geek Hoskins, non puoi capire il pericolo che avresti potuto causare con il tuo furto. Per il bene di tutti, umani e bestiali, ridammi ciò che hai rubato. Machine Man, fermatelo! Dovete fermarlo a qualunque costo! Se occorre, distruggetelo! Intatto! Sono piuttosto carine come foto, ragazzo. Ma le foto carine non fanno vendere i giornali. Visto un'arrampicamuri, li hai visti tutti. La vita è dura, caro Peter, specie da quando comanda l'alto evoluzionario. Alla gente piace evadere dalla realtà, vuole conoscere la vita personale di questo uomo ragno. Vuole sapere cosa mangia, come si diverte, o meglio ancora se ha una fidanzata e com'è. E non semplici foto come quelle che hai fatto tu. A proposito, ti do un bel compito, Parker. Il tuo amico uomo ragno deve avere una fidanzata. Portami le foto della ragazza, anzi, meglio ancora, di tutte e due. Ma come faccio? Non è che io posso chiedergli una foto così. Vede, l'uomo ragno non è esattamente il mio migliore amico. Capo, dia un'occhiata fuori! Spero che ne valga la pena. Wow! Questo è uno scoop, voglio le foto. Sì, subito! Arrediti! Ti dispiace se mi intrometto? Non so qual è il tuo problema, ma se non ti porto via di qui, avrai davvero bisogno di quelle belle. Il mio senso di ragno è in azione. Eliminare il bersaglio. Bel colpo, amico. Allora, vediamo, laser contro ragnatele. Oh no, lo sapevo. Dovevo ricaricare lancia ragnatele stamane. Arrenditi subito. Arrediti subito. Arrenditi subito. Tutto. Grazie per la visione!